Il Gravina ci prova fino alla fine ma cede il passo alla casertana. Decide la rete di vacca nella prima frazione. Terza sconfitta consecutiva per il giallo-blu. La gara è subito vibrante con la casertana che apre le danze al quarto. Lancio in verticale di vacca-favetta. Controlla in aria, resiste alla carica dell'avversario e trova la girata che termina di poco alta. La reazione del Gravina arriva due minuti più tardi con Tommasone ma con la Cicchi mura la sua conclusione. La casertana torna a rendersi pericolosa al ventiquattresimo. Vacca ci prova dalla distanza. Attento, mascolo. Alla mezz'ora l'episodio che rompe l'equilibrio in favore degli ospiti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Vacca prende il tempo alla difesa giallo-blu e porta i suoi in vantaggio. I primi 45 vanno in archivio con il tiro potente ma centrale di Chiaradia. Nella ripresa succede poco quanto nulla. Casertana in avanti con Kosovan. La difesa di casa sventa. Il pericolo con affanno. Al 59esimo angolo per i campani batte Kosovan. La difesa respinge. Al limite c'è Visente che calcia di prima intenzione. Tutto facile per mascolo. Nel finale due occasioni per il Gravina. Prima la girata di Diop. Caro tenuto blocca. Poi Giglio dal limite. Palla che fa la barba al palo. Finisce così ancora una sconfitta per i murgiani che mantengono comunque la quinta posizione in classifica. Grazie. Grazie.